Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Polumbo, oggi sono qui con Daniele Pampanelli, il nostro docente di progettazione grafica. Ciao Daniele. Ciao Nicola. Allora, perché siamo qui oggi? Perché questo sabato a Umbria Libri avremo un incontro che si terrà alle 11, presso la Facoltà di Agrare, come dicevo, e parleremo di che cosa, Daniele? Ma il titolo dell'incontro è il progetto editoriale dell'Accademia e della Professione, e io direi anche viceversa, della professione e dell'Accademia. È un incontro su una tavola rotonda con me, come rappresentante del LID chiaramente, e Marco Tortoioli Ricci, che è un affermato professionista e un docente sia all'ABA, non so se anche Stanna ha confermato, ma sicuramente all'Isia di Urbino. È un incontro, diciamo, una chiacchierata, io la definirei, tra quelli che sono, insomma, le peculiarità di portare la professione nell'Accademia, quindi nell'insegnamento e viceversa, riportare l'insegnamento e tutto quello che è la ricchezza di tirare l'insegnamento nell'ambito professionale. Penso che sia una cosa molto interessante, insomma, soprattutto riguardante i progetti di editoria, quindi le pubblicazioni, i volumi e la progettazione in generale. Molto da rincontro, tra l'altro, un nuovo docente dell'Istituto Italiano del Design, che è Gianluca Sandrone, che proprio per l'Istituto del Design, il prossimo anno terrà un corso sull'Istituto Italiano. Sì, sul publishing, esatto. Sì, sarà un importante incontro, speriamo di poter fare la diretta streaming, spero che non ci siano problemi con la Wi-Fi, anche io vi invito a venire perché, secondo me, è molto importante questo nuovo rapporto che abbiamo con Ubre Libri, che nasce proprio quest'anno, e come diceva Daniele, è una cosa molto interessante proprio perché è un bel dibattito, attorno all'oggettazione. Alla progettazione, sì, alla progettazione soprattutto dell'oggetto libro, no? Quindi non è che parliamo di, semplicemente parliamo di tascabili, di libri, di narrativa, ma di tutto quello che è il progetto, la progettazione intorno all'oggetto libro, quindi tutto quello che è un po' l'utopia del design intorno a questa faccenda. Sì, ritengo che sia molto interessante perché, pur resteremo, sarà una chiacchierata di un'oretta, insomma, con tre persone fondamentalmente, potrà essere interessante non tanto per dire, vediamo che cosa fanno all'Istituto Italiano del Design in genere, ma proprio per parlare del progetto in generale, quindi è una roba che speriamo sia accessibile, ma allo stesso tempo anche, noi cercheremo di farla molto accessibile anche ai profani, tra virgolette, ma che sia anche interessante per chi di design, di progettazione vive o vorrebbe vivere. Sì, e poi, giusto per chiudere, l'ora successiva sarà sempre gestita da noi come spazio, con il nostro docente di fotografia Lorenzo Dogana, che abbiamo intervistato poco fa, e che ci racconterà in generale di come nasce il book fotografico, e come, diciamo, una tematica che è anche questa molto interessante e che ci vede poi anche con gli studenti in vari progetti. Va bene, grazie mille. Grazie Nicola. Grazie a Daniele. Ciao, ciao a tutti. Ci vediamo sabato. A sabato alle 11, l'abbiamo detto? Sì, sì, alle 11, l'ho detto all'inizio. Trovate tutti i riferimenti sui nostri social media. Grazie a tutti.